C'era una nave chiamata il Titanic, era meravigliosa, maestosa, alcuni dicevano l'inaffondabile, eppure una sera mentre stava attraversando la notte in un cielo stellato, tutte le persone che erano lì a bordo iniziarono ad essere scosse da un lato all'altro, e il capitano della nave si rese conto che quella cosa che sembrava piccolo uscire fuori dall'acqua in realtà era più grande di quello che pensava. Iniziò da un lato a segnare quella nave, creò una breccia, un barco, e piano piano si imbarcò dell'acqua fino a quando quella nave stava iniziando ad essere destabilizzata per poi affondare. Forse sei un cristiano e tante volte ti chiedi perché non mi sento realmente appagato, perché tutto quello che ricevo, i culti, le benedizioni parte del Signore, vanno a un certo punto, quando torno a casa, è come se la mia vita fosse un contenitore bello, ricco, pronto ad accogliere, ma un contenitore che ha un foro, che poi perde quella benedizione. Quello che sento di dirti, tante volte nella nostra vita il nemico ha aperto delle brecce e da lì sono entrate tante situazioni, forse un peccato segreto nascosto che combatti. Oppure uno stato d'animo, un ricordo, un dolore, un'emozione che riguarda il tuo passato, una mancanza di perdono, o forse non riesci a perdonarti. Una delle cose più importanti che lo Spirito Santo vuole è che noi lasciamo il controllo e lui prima di chiudere quelle brecce la restaura. Nella Bibbia siamo chiamati restauratori delle brecce, i costruttori, ma da soli non possiamo farcela. Abbiamo bisogno di lui, il nostro consolatore, colui che avviene e inizia a lavorare la tua vita. Dai a Dio le parti più intime del tuo cuore, forse sono delle cose del tuo passato che non hai mai dimenticato e che fai finta, ti nascondi, non la vuoi affrontare. A volte nella natura dell'uomo ciò che ci ha fatto così male, che è stato così particolare e ci ha segnato, viene nascosto in un cassetto del cuore e messo di lato. E però non è chiuso, non è stato guarito. Quell'area lì è un'area dove ancora c'è bisogno di guarigione. Lascia che Dio possa scendere come un balsamo, non lasciare che quella ferita si chiuda quando lo scheggia dentro, perché tornerà a fare ancora del male alla tua vita, alla tua anima. Una delle cose che Dio ci ha dato con la nuova nascita è un processo di rinnovamento e guarigione. Paolo diceva il rinnovamento della mente perché il centro delle nostre battaglie è qui e è qua. Ed è un passaggio dove il nemico si insinua tante volte. Ma non tutto quello che noi pensiamo corrisponde alla verità. E non bisogna solo conoscere la verità, ma bisogna viverla la verità. E se tu dici la tua verità, le tue abitudini, le tue azioni, il tuo modo di affrontare la vita cambia. Quello che voglio dirti, lascia che ci sia una cura completa di guarigione alla tua vita. Lascia che Dio alzi un muro di cinta. Lo Spirito Santo questa sera vuole parlare alla tua vita personalmente, ti vuole dire prendiamo l'uscita del tempo insieme, raccontami. Tira fuori quelle lacrime, tira fuori quel rancore. Nella Bibbia è scritto diratevi ma non peccatele. Non stare in silenzio, non stare lì a distruggerti nel silenzio della tua vita. Io non vi chiamo più, certi, vi chiamo amici. Colui che avviene quando sei affannato. C'è un ladro che è venuto lì nella notte, al buio, è aperto proprio quella breccia. Ma c'è un guardiano, il guardiano di Israele, che vuole vegliare e vuole alzare una torre. Una torre che sia la tua torre di protezione. Vuole fare di te un uomo e una donna completa, libera. Conoscere la libertà e conoscere della verità ed essa vi farà liberi. La libertà in Cristo è una delle cose più belle che un credente possa provare. Non c'è qualcosa che Dio fa per metà. Dio fa un'opera completa. Ma tu devi collaborare. Il Signore ti vuole appartare per l'opera dello Spirito Santo. È bisogno di restaurazione. È bisogno di guarigione. Forse è bisogno che la tua anima venga curata. Non ha importanza quanti anni di fede hai, che per cos'è fatto, se sei responsabile. Dio vuole sanare perché Dio non vuole lasciare nulla in sospeso. Dio vuole che questo meraviglioso figlio di Dio, questa figlia di Dio, siano forti, incrollabili nel suo amore e soprattutto vuole che magari in alcune cose che tu ci pensi e non hai pace, che non dice nessuno, che forse a volte scappi, vuole portare perdono e vuole che tu stasera ti perdoni. E Dio vuole fare col suo amore, col suo abbraccio, sussurrando al tuo cuore che lui ti ama grandemente. Chiudi quelle brecce, non lavorare da sola, non t'affaticare da sola. Non ce la facciamo con le nostre forze, ma con lui possiamo fare la differenza. Lascia a lui ogni peso, le spalle larghe e spicca il volo. Tu sei nata per le vette, tu sei nata per la grandezza di Dio, per sognare a realizzare in grande i sogni che Dio ha intessuto nel tuo cuore. Oh, non ti fermare, corri, forse per un periodo, per un momento hai combattuto, arrenditi, dai a Dio tutto, tutto quello che hai dentro e vedere la gloria nella tua vita, spandersi. Sarai un diamante, una luce per gli altri che ti incontreranno. Ma quelle schegge, quelle graffiche nel cuore, quelle parti che sanguinano, fermati e lascia che Dio si prenda cura di te. Ti porti sulle spalle, ti accompagni alla sua locanda e possa sanarti dolcemente, perché lui è il padre, il padre, tuo padre, e non vuole che tu soffra, perché il tuo dolore è già stato preso, lui si è caricato già del tuo dolore sulle spalle. Dio ti benedica.